Partita di play-off, partita nella quale non si sa fino in fondo chi vince e chi perde. Credo che siamo stati bravi a non molare, a continuare ad essere in partita anche quando siamo andati sotto di 12 punti. È stato molto, 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 molto importante l'aiuto del nostro pubblico che ci ha fatto continuare a credere, a non molare mai. C'è stato questo connubio fra i ragazzi che in certi momenti abbiamo fatto qualche canestro importante ed ha aiutato tutti a continuare a crederci. Siamo qui, adesso andiamo a giocarcela di là e siamo questi, siamo questi che dobbiamo continuare ad avere fiducia in noi stessi e continuare a crederci. I miei ragazzi che non ci hanno mai molato di credere, nei tifosi, nel pubblico che ci ha spinto nei momenti di difficoltà e nell'attacco. Se noi in casa nostra segniamo 14 punti come nel primo quarto diventa molto complicato poter vincere la partita, soprattutto contro una squadra molto fisica come giocano loro. Ci siamo un po' sbloccati, abbiamo iniziato a correre, a segnare, a tirare anche qualche tiro più veloce, più aggressivo, diciamo. Anche in contropiede, credendoci veramente in tiri aperti, con pochi secondi giocati sul possesso. Noi siamo questi e quindi dobbiamo continuare a crederci. Dovevamo cambiare qualcosa, dovevamo cercare di essere più energici. Stavamo subendo un po' troppo sulle altre scelte difensive. Siccome loro dopo erano con Carenza, con Bobby Jones, che si aprivano, questo ci è stato più facile di fare, più possibile. Dobbiamo crederci, niente altro. Dobbiamo andare là con la mente libera. Oggi credo che i ragazzi all'inizio partita hanno sentito un po' la pressione di dover vincere la partita. Dobbiamo andare là con la mente completamente libera, pronti perché sarà una guerra, pronti perché loro hanno fatto tutta la stagione facendone uso della loro fisicità, della loro intensità, della loro energia. E noi dobbiamo senza dubbio mettere lo stesso livello di energia e aggressività che metteranno loro. Dopo da lì in poi ce la giochiamo con le cose tecniche, però se no stiamo pronti ad accettare questo contrasto fisico non riusciremo ad essere in partita.